Musica Ben ritrovati con questa nostra nuova puntata di 110 Lab speciale bonus edilizia. Allora, non spreco altro tempo perché oggi il parterre è davvero d'eccezione, allora vado a presentare i miei ospiti perché abbiamo con noi il presidente, l'ingegnere Francesco Burrelli, presidente nazionale di ANACI, l'associazione nazionale amministratori condominali immobiliari. Ben trovato, presidente. Buongiorno a tutti e anche ai telespettatori. Grazie per aver accettato il nostro invito, così come ringraziamo anche il costruttore Massimo Cairoli, grazie per essere intervenuto. Ciao Roberto, grazie a voi, buonasera. Allora, partiamo magari con l'ingegnere Burrelli, perché con lui vorrei fare un po' il punto della situazione, perché i bonus hanno cambiato anche un po' il modo di doversi impegnare a livello di condominio, soprattutto il gran lavoro che gli amministratori di condominio devono fare per capire le regole, le normative, adesso che le norme sono tutte chiare e definite, abbiamo un obiettivo e una prospettiva, però insomma poi la giacchetta viene tirata all'amministratore di condominio in qualche maniera. Allora chiedo all'ingegnere Burrelli come sta andando, ecco, con i bonus, i condomini e gli amministratori. Ecco, voi di ANACI immagino che abbiate un po' la cartina di tornasole di tutta questa situazione. Diciamo che qualcosa in più rispetto a quando abbiamo iniziato, lo sappiamo, che poi ancora sia tutto definito e tutto chiaro quello che c'è da fare, è una parola, diciamo, importante da valutare e valutarlo molto bene. Sicuramente la conoscenza sia delle parti fiscali, sia delle parti legali, sia delle parti tecniche su quali siano gli adempimenti da fare a partire dal decreto 34 fino ad arrivare all'ultima legge finanziaria sicuramente aiuta l'amministratore ma aiuta i condomini che poi sono amministrati da quell'amministratore perché sicuramente non si è fatto, come dire, abbindolare dalle varie proposte che c'erano inizialmente su quello che erano le proposte sul bonus facciata soprattutto e sugli altri bonus perché il bonus 110% era più complicato tenendo conto che non ci fossero stati né verifiche, diciamo, di congruità nei controlli e soprattutto che non fosse tutto parametrizzato, comunque controllato rispetto ai, diciamo, preziari quindi che fosse parametrizzato, quindi con computi metrici, né tanto il fatto che poi invece tutto questo era già ben censito nel testo unico dell'edilizia, quindi l'articolo 49 del testo dell'edilizia comunque si dice che lo Stato non può allergire bonus, non può allergire finanziamenti a fabbricati che sono, come dire, abusivi o comunque che hanno dei vizi o delle senatorie da fare a meno che non le abbiano già iniziati e siano poi in possesso dei relativi documenti e soprattutto che il bonus che io vado a richiedere allo Stato sia dovuto non siano bonus ipotetici che poi in caso di congruità e di verifica io ne ho approfittato, diciamo, bonariamente, con semplicità, senza dolo oppure per altre motivazioni, comunque il bonus deve essere calcolato su parametri certi e quei parametri certi ci sono, c'erano prima, poi diciamo che il decreto antifrole ha detto qualcosa in più, ma quelli più attenti li avevano già fatti così, quei computi metrici questo ha complicato parecchie cose perché tutte le verbali di assemblea che erano stati fatti precedentemente a quella data e che avevano in qualche maniera ancora non iniziato i lavori per il 110 o per anche i famosi 50% e che poi il 110 è il 90, poi è diventato il 60 o meno qualche problemino se lo sono messi perché sono dovuti tornare in assemblea con tanto di parametrizzazione, con tanto di computo metrico, molti per verificarlo molti per andare a correre ai ripari a dire che non erano più 600.000 il bonus facciata per quel tipo di condominio ma magari erano 480 perché non erano dovuti certi oneri finanziari o magari c'erano dentro delle spese che non erano detraibili nel 90% e quindi si sono dovuti fare delle correzioni, molti invece avevano già iniziato, l'avevano già fatto o lo stanno finendo e qualche piccolo problema ce l'hanno, ce l'ha l'amministratore, ce l'ha l'azienda e ce l'hanno i tecnici che hanno non verificato e che poi devono invece verificare o asseverare i direttori di lavoro, i responsabili di lavoro, CSP e CSE e quindi tutti i coordinatori della sicurezza in fase di progetto e in fase esecutiva a seconda della funzione che avevano. Quindi sicuramente delle cose da chiarire su quel decreto c'è, oltretutto l'agenzia delle entrate può verificare a campione, poi adesso dicono che il 5% o il 10% lo vedremo quanto sarà o meno, ma a seconda di dove non gli va bene diciamo quello che viene presentato all'Enea o che hanno già presentato può fare dei controlli e verificare se c'è quella congruità o non c'è e andare a mettere dei puntini sulle i a tutte quelle richieste che sono stati fatti perché a detta dell'agenzia delle entrate sembra che ci siano 4 miliardi in più di richieste rispetto agli 11 che loro pensavano. E allora infatti proprio su questo voglio interpellare Massimo Cairoli qua con noi che è un costruttore. Come si esce da questa impasse nel senso perché oggi noi qua cerchiamo di dare una visione da vari punti di vista, diciamo che io posso fare il proprietario di una casa, di un condominio, di una villetta insomma a 360 gradi quindi mi tolgo i dubbi che sono quelli che ci mandano i nostri telespettatori che ci li inviano al 39202 8020. Poi c'è la parte quella relativa ai condomini con l'ingegner Burrelli e poi c'è il costruttore che ci può rispondere anche. Allora voglio sapere proprio tutte le sfaccettature e gli aspetti. Ma sì, intanto ci si trova appunto a dover far fronte a queste problematiche che diceva all'ingegnere. Comunque con questo decreto che è così dalla sera al mattino alla notte è stato partorito. Decreto giusto se vogliamo perché comunque anticipato e anche portato alla luce quelli che potrebbero essere realmente poi i problemi tra qualche mese o tra qualche anno o magari già perché i controlli comunque ci sono. Non è detto che partano tra qualche anno, ci sono già. Per cui ricordiamoci che sono soldi dei contribuenti, sono soldi pubblici che qualcuno dovrà giustificare qualora i prezzi siano stati gonfiati come abbiamo sentito da più servizi, ho letto dalle notizie di cronaca. Con risvolti anche che possono andare a toccare anche un aspetto penale perché comunque si parla di il decreto stesso, antifrode. Quindi ben venga questo decreto. Come per gli altri bonus però c'erano già queste procedure, soprattutto per il 110, c'erano dei massimali di spesa, c'erano le conformità, c'erano erano già richieste le varie asseverazioni per il bonus 90, no? E quindi questo magari è stata un po' una falla del bonus 90. Ricordiamoci che il bonus 90 nasce prima del bonus 110. Per cui come diceva l'ingegnere ci si è trovati o ci si trova magari a dover tornare nelle assemblee e fare mia colpa e dire signori l'importo è sovrastimato, per cui rivediamo. Ma se si è in questa situazione ben venga nel senso che si è in tempo a rettificare, a valutare attentamente i computi perché vuoi un po' la fretta, vuoi un po' la... così ma sì tanto nessuno controlla, magari alcune valutazioni sono state fatte un po' in modo superficiale, però ripeto si è in tempo per mettere a posto queste situazioni, questi numeri che devono tornare. Ecco per cui non dobbiamo viverla sempre con la paura del controllo, cioè dobbiamo veramente perché comunque con i bonus sono delle opportunità per tutti, dal contribuente come dicevi tu Roberto tu si investe di... fai un po' la parte, quindi per il proprietario perché ha la casa rimessa a nuovo e soprattutto da un punto di vista energetico e anche se vogliamo è anche estetico perché il bonus 90 non è altro che rifacimento senza andare a migliorare le classi termiche della propria abitazione. Per le imprese comunque è un... così un grande... c'è un grande volano di lavoro e di conseguenza per il tutto il settore edile, per i professionisti ecco. Per cui è un'opportunità, siamo ancora in tempo per non prenderla a calci come spesso siamo abituati a fare ecco. Ecco Burelli voglio chiederle anche questo, praticamente da quello che mi pare di capire chi si è mosso d'impulso può rischiare di dover insomma fare delle retromarcia, chi magari invece è stato un po' più morigerato adesso riesce magari a fare già un bel intervento magari su un condominio, sull'abitazione e avere più chiare insomma quali sono le prospettive. Ma diciamo che quello che ha detto che a me piace per due motivi. Alcune delle cose che non si sono valutate quando è partito il bonus, tutti i bonus 36 che era strutturale, gli altri bonus che poi sono venuti dopo e sono le maggiori richieste che poi ci sono state di conteggio, di materiali, di professionalità tenendo conto che l'edilizia fino a quella data lì aveva perso oltre 270 mila professionalità e quindi pochi sanno o perlomeno pochi sanno quelli che non sono del mestiere che tutte le imprese che devono lavorare all'interno di un comparto edilizio soprattutto nei luoghi di lavoro e nei cantieri per il titolo quarto devono essere imprese edili, devono essere iscritti alla sezione provinciale della casa edile e quindi devono avere un corso di formazione, devono essere formati e le imprese devono avere certe caratteristiche che molte delle imprese finanziarie che ci sono in giro, alcune di queste non ci sono. Quindi è vero che si possono aggiustare o tarare meglio le cose con le imprese serie, con professionalità perché vogliono ancora tenere il nome, perché vogliono ancora tenere il punto di riferimento nella nostra città. Io sono di Torino, anche se vengo dalla Sardegna, ma sono di Torino da una vita, ho figli nati a Torino e quindi Torino è una grande città, è una città seria e quindi ci sono tante aziende serie che lavorano a discapito di molte aziende che invece forse hanno fatto un carico all'arrembaggio o comunque hanno fatto una corsa al business o comunque al salto alla dirigenza. Quindi sicuramente questo passaggio che bisogna fare bisogna farlo tenendo conto tre cose. Abbiamo ancora le professionalità per gestire tutto quello che sta succedendo adesso per il 22-23, abbiamo tutti i materiali e li stiamo verificando come dice la legge, come dice il MISE, tutti quelli che sono le caratteristiche dei materiali che stiamo installando. Abbiamo tutti i ponteggi a norma che non li facciamo venire dall'esterno, che non sono omologati e quindi c'è di nuovo bisogno di avere un margine maggiore perché tutti quanti stanno facendo i furbi e poi l'asile li blocca. Abbiamo tutti i requisiti tecnici professionali per entrare nel luogo di lavoro, nel cantiere perché così non creiamo problemi né alle persone né soprattutto ai condomini poi in futuro e soprattutto tuteliamo la sicurezza e la vita di quelli che ci lavorano all'interno perché sappiamo benissimo più professionalità, più competenza, più conoscenza vuol dire meno rischi per il lavoro che si fa. Quindi la somma delle cose che dobbiamo ottenere è questa. Allora proviamo, proveremo a dare alcune di queste risposte se ci riusciamo dopo una breve pausa. Torniamo tra poco. 110 Lab, speciale bonus edilizia 110% e non solo aggiungo io, abbiamo messo insieme le vostre domande 39202 8020, le vostre che sono anche le nostre insomma da utenti, ma abbiamo messo insieme soprattutto le competenze, le competenze dell'ingegner Burrelli, presidente di Anaci che sono poi gli amministratori, un'associazione che riunisce gli amministratori condominali, immobiliari italiani e un costruttore Massimo Cairoli proprio per vedere tutti gli aspetti che riguardano i bonus. Allora Cairoli visto che prima della pausa parlavamo proprio delle competenze, vi chiedo quanto è importante che tutte quelle competenze che servono e delle quali ci faceva l'elenco anche con delle domande aperte, diciamo così, l'ingegner Burrelli, quanto sono fondamentali e come ci si può muovere in un dedalo di questa maniera da utente? Allora intanto precisiamo che la responsabilità poi maggiore ricade proprio sull'utente, nel caso di contenziosi o di situazioni alla base però giustamente della piramide c'è un percorso che coinvolge più figure e ognuno deve rispondere. Quello che diceva l'ingegner Burrelli faceva un po' un elenco della spesa che ahimè è molto veritiero ma soprattutto a quelle domande come dice aperte... Non sempre facile rispondere. Sì ma soprattutto sono anche risposte magari negative perché comunque l'edilizia da tanti anni che non accorpa più manovalanza o figure professionali perché in questi anni è stata molto bersagliata e c'è stato un drastico calo per cui anche figure nuove che si avvicinavano al mondo del lavoro andavano a fare altro e non venivano a lavorare nel nostro settore. Questo anche noi l'abbiamo già ripreso in altre in altre puntate. Oggi quando inizi un cantiere, per solo farvi capire, sei un po' ostaggio del ponteggio che fino a qualche anno fa o qualche mese fa comunque era l'ultimo dei problemi perché lo noleggiavi, molte imprese ce l'avevano di proprietà. Oggi invece devi fare i conti con prezzi al metro triplicati e soprattutto anche con... però poi fa parte anche della correttezza, per fortuna non tutti sono così, il proprietario, le ditte che gestiscono i ponteggi, un po' del ricatto che ti fanno oggi un preventivo tra una settimana non ha più valore. E' aumentato quindi o me lo paghi di più o io sono pronto ad andare, cioè io no, la ditta a montare il ponteggio da un'altra parte. Quindi questo essere così sotto scacco non è bello. Poi è chiaro c'è la figura del professionista che è fondamentale in questo iter, anzi c'è anche forse qualche domanda che poi risponderemo, però alla base, come dicevo prima, della piramide c'è tutto il lavoro che deve essere fatto dal professionista. Fino a giugno di sei mesi fa e finalmente si è chiarito con il decreto del mese di giugno, c'erano tante insidie e i professionisti giustamente avevano anche paura di intraprendere un'attività dove li, così, rendeva sì responsabili perché comunque ogni professionista è responsabile di quello che fa geometra, architetto, ingegnere, però con tante lacune, con tante cose dette ma non dette o a libera interpretazione, ecco per cui a giugno finalmente si sono chiariti diversi aspetti. E' chiaro che però i professionisti ne servirebbero, servirebbero perché comunque quelli che ci sono sono tutti pieni, non riescono a dare risposte in tempi in tempi brevi e il contribuente va così, va in ansia perché non ha risposte e pensa di perdere il bonus. Ecco perché poi c'è stata un po' anche la corsa, no? Perché il bonus, poi è un bonus che si chiama 110, non può che far gola. Presidente Burrelli, tutti, tutte quelle domande aperte, quali documenti servono, quali professionisti, quali materiali, insomma diciamo che ci è spiegato molto bene come fare, cosa poter fare ma non come farlo e immagino, e abbiamo anche titolato un po' ironicamente, amministratore condominiale che fatica perché poi immagino di fronte a queste riunioni davanti a tante persone che magari hanno tante teste diverse, non sia semplice dare delle risposte, ma soprattutto avere poi i requisiti corretti. Presidente. Allora, proviamo a chiudermi qualche d'una di domanda, per il tempo che abbiamo chiaramente, questo è il tempo televisivo e quindi sono abbastanza abituato a sapere i tempi televisivi, quindi non è che ne possiamo chiudere molto, ma partiamo dall'inizio, partiamo da quando, alla prima assemblea, all'amministratore dovrebbe dare la prima informativa di quale tipo di bonus si potrebbe utilizzare per quel tipo di condominio, 50, 60 o 110 in questo caso, oppure 50, 60 o 90 fino al 31-12 del 2021. Il problema poi è qual è la catena delle responsabilità a partire dal condominio, perché il condominio è il committente e quindi il committente ha due possibilità, nomina il responsabile dei lavori a fine della sicurezza e quindi diventa lui o lui il quale deve verificare tutti i requisiti tecnici professionali di tutti coloro i quali entrano in cantiere a qualunque titolo, compresi i materiali e compresi anche tutte le strutture, quindi ponteggio, betoniera, gru, trapani, qualunque cosa entri, ma addirittura deve verificare anche tutte le certificazioni di tutti i materiali che entrano, tipo A, tipo B, quindi materiali ignifughi, non ignifughi, dove vanno, eccetera, quindi il responsabile dei lavori a fine della sicurezza se viene nominato è lui il responsabile e verifica tutti i requisiti tecnici professionali di tutte le altre figure, quindi del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza in fase di progetto, in fase di esecuzione, del RSPP, del responsabile di cantiere, quindi tutte le figure che poi viene. Se il responsabile dei lavori a fine della sicurezza non viene nominato, di fatto la legge l'81-2008 ed è il centro sede del 2009, hanno specificato che la responsabilità resta in capo al committente, quindi il responsabile legale e l'amministratore, quindi l'amministratore. La prima domanda è, ma tutti gli amministratori hanno le caratteristiche, le competenze per conoscere quali sono i requisiti tecnici professionali che devono avere tutti i professionisti e andare a verificare con l'81-2008 articoli alla mano, l'articolo 89, il titolo 90, il titolo quarto, il titolo decimo, perché teniamo conto che oggi il titolo quarto sono i cantieri immobili, ma il titolo decimo oggi c'è la pandemia, quindi il piano anti-covidi, quindi quali sono i dispositivi di protezione individuale, non solo per quanto riguarda il cantiere normale, quindi occhiali, casco, scarpe, eccetera, ma oggi vuol dire tutti i dispositivi anche che consentono, il piano anti-covidi deve essere contestualizzato dal cantiere, quindi cambia da cantiere a cantiere, in un paese c'è la zona gialla, in un altro paese c'è la zona rossa o la zona arancione, il piano anti-covidi è diverso, cambia, cambiano le conseguenze, cambiano i distanziamenti, quindi cambiano. Quindi dico, quanti degli amministratori sono in grado di fare responsabili dei lavori a fine della sicurezza perché non conoscono la normativa e si trovano di fatto essere responsabili dei lavori a fine della sicurezza perché non l'hanno nominato. E quindi quella committente che diceva prima giustamente Cairoli, si trova a essere responsabili ma si trascina anche dietro i condomini, perché se quell'amministratore non ha poi quella garanzia, non ha quella sicurezza, non ha quella assicurazione che per scrivere la legge oltretutto deve verificare che tutti i professionisti che stanno lavorando devono avere un'assicurazione minima di 500 mila euro e poi proporzionate il numero di cantieri in cui sono responsabili e quindi devono andare a verificarlo, anche perché quell'assicurazione le consente poi che se ci sono dei materiali, se ci sono poi delle dichiarazioni false da parte del professionista o di creazione di dolo da parte del professionista, lui è condannato a pagare da 2 a 15 mila euro per ogni singolo documento, ma se non è solvibile o se non è coperto da assicurazioni quella roba lì non lo paga, nessuno lo paga e chi lo paga è sempre i pantaloni e quindi l'utente. Quindi bisogna dire che ci andrebbe, mi intrometto solo perché chiedo anche per coinvolgere Cairoli, una bella responsabilità, ci andrebbe forse anche a una responsabilità, dire che corrispondesse anche una remunerazione forse per il rischio che si corre, chiedo a entrambi se potrebbe essere così perché ad oggi un amministratore condominiale ha più oneri che onori, Cairoli e poi Burelli. Io non mi metterei e capisco anche alcuni amministratori che non ne vogliono saper sentire parlare, ma già dalle, io così all'inizio proprio, anche perché poi sono dell'avviso che bisogna sempre imparare, domani c'è sempre qualcosa da imparare, quindi ho anche partecipato a delle riunioni di condominio su invito degli amministratori, quindi già le domande più disperate ma perché è giusto che sia così, ma soprattutto la responsabilità che l'amministratore va a farsi carico, senza neanche accettare o meno l'altra figura professionale che diceva l'ingegner Burelli perché lì comunque diventa poi la punta dell'iceberg. A fronte di che cosa? È stato previsto tutto, ma non un compesso per l'attività dell'amministratore di condominio, ecco no? Certo, ebbè che sarebbe da rivedere, ma allora guarda, siccome i tempi televisivi purtroppo non ci lasciano scampo, io però a Burelli proprio chiedo a lui la chiusura su questo argomento. Beh, mi tira per la giacchetta e mi fa anche un favore perché è una delle cose che io sto contestando, le avevo contestato allora ai sottosegretari che avevano impostato il 110, quindi Fraccaro e Villarosa, che sapete benissimo, l'ho contestato Antonio Maria Ruffini, presidente e direttore dell'Agenzia delle Entrate Nazionale. C'è un nostro scritto, fra poco ci sarà una nostra diatriba che lo manderemo a livello nazionale per due motivi sostanziali. Il primo è perché loro quando da un punto di vista politico si sono venduti il bonus, se lo sono venduti dicendo che era tutto gratis, invece non è vero, il compenso dell'amministratore non è detraibile e quindi anche se il compenso dell'amministratore c'è, come ci deve essere, non è detraibile e quindi non è vero che è tutto gratis. Il secondo è che il decreto che hanno fatto è un decreto che dice che tutte le figure che concorrono professionalmente ad eseguire il bonus sono detraibili, poi hanno dovuto aggiungere quelli scritti ai collegi o agli ordini e quindi hanno togliato fuori tutti i legge 4, perché l'amministratore sotto la legge 4 2013 e quindi hanno impedito questo tipo di discorso. Ma la cosa peggiore è che l'amministratore, il rapporto di mandato che c'ha, che lo dice la legge, è un rapporto di mandato oneroso, non è che nessuno fa gratis. Quindi nel rapporto di mandato oneroso dove c'è scritto che io percepisco una percentuale o comunque un compenso per effettuare i lavori straordinari, il mandato quello me lo dà e quindi in un momento che dico io il bonus mi interesso, mi interesso di tutto quello che sono oltre le responsabilità poi quello che ne deriva, le competenze soprattutto quelle che ce le hanno meno, il compenso il condominio lo mette a bilancio, lo paga ma sarebbe corretto che lo potesse detrarre perché come tutti gli altri compensi sono compensi essenziali, se non si fa l'assemblea e non c'è la delibera per i lavori trainanti non si possono fare né lavori trainanti né tantomeno si possono fare il resto. Poi tutti i lavori trainanti saranno nelle parti comuni, sono nelle parti private e quindi al limite all'amministratore non interesserebbe perché l'amministratore è la parte comune. Quindi l'amministratore mi sembra giusto che sia regolarmente pagato, che abbia regolarmente le responsabilità, che abbia regolarmente le assicurazioni giuste, che sia competente, che si coordini direttamente con le imprese e con le figure professionali per tutelare chi? Il cittadino che abbia il miglior servizio, il miglior lavoro, a parità di condizioni utilizzando i migliori e soprattutto anche il dottor Cairoli. Piacere, grazie. Che salutiamo, grazie Massimo Cairoli, costruttore. Grazie a voi soprattutto che ci avete seguito. Appuntamento con 110 Lab. Alla prossima puntata.